L'amministrazione comunale dà la possibilità ai cittadini di poter ristrutturare le vecchie case oppure costruirne di nuove, potendo approfittare di alcuni incentivi. Di cosa si tratta di preciso? Si tratta di una delibera approvata già al mese di maggio all'unanimità dall'amministrazione comunale che vuole incentivare la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici sull'intero territorio comunale applicando una scontistica a livello di oneri di urbanizzazione e costi di costruzione. Perché è stato deciso di seguire questo percorso? Perché l'Unione Europea impone degli obiettivi che sono volti al 2030-2050 per l'abbattimento fino all'80-95% delle emissioni di CO2, ma è ancora più limitato ai prossimi 2019-2021, dove rispettivamente per edifici pubblici e nuovi edifici privati si dovrà solamente avere edifici a energia quasi zero, che significa edifici che hanno bassissimi valori di dispersione in termini di calore e che non necessitano di apporti per raffrescamento e riscaldamento se non da fonti rinnovabili. Visti questi obiettivi che l'Unione Europea impone, il Comune di Castellamonte ha voluto dare un contributo promuovendo la ristrutturazione e la nuova costruzione di edifici che siano a basso impatto in termini di emissioni di CO2. La delibera è composta sostanzialmente da un allegato tecnico che è chiaramente non obbligatorio per il cittadino, il singolo può aderire liberamente, scegliendo tra un protocollo, adesso abbiamo due protocolli di ente terzi, oppure scegliendo la legge regionale. In entrambi i casi ha dei parametri, degli obiettivi in termini di dispersione energetica da rispettare per poter raggiungere il grado di efficienza richiesto dal protocollo scelto. In questo modo si riesce ad avere un duplice contributo sia in termini di aumento del comfort abitativo sia all'interno dell'involucro e in termini anche ambientali di emissioni di CO2 e si riesce ad avere anche una riduzione dei compensi economici che il singolo dovrebbe dare al Comune. In base a come abbiamo suddiviso il territorio di Castellamonte in concentrico, frazioni di prima cintura e frazioni di seconda cintura, andando a definire in base al protocollo di costruzione o ristrutturazione scelto delle percentuali di scontistica degli oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Abbiamo voluto aggiungere un piccolo incremento per quanto riguarda le frazioni, quindi in termini percentuali, più 3% e più 5%, rispettivamente prima e seconda cintura, per andare a cercare di contrastare quella che è la tendenza attuale allo spopolamento che statisticamente si è verificato nell'ultimo decennio nelle frazioni del territorio. Aggiungo che la delibera che è stata approvata e questo allegato tecnico è a titolo volontario per quanto riguarda il cittadino, non è un'imposizione né del Comune né dell'ufficio tecnico, ma il singolo cittadino può decidere liberamente di seguire uno dei protocolli proposti. Vorrei anche fare notare che l'allegato tecnico, così come è stato redatto, è aperto a essere integrato con nuovi protocolli che possono essere presentati da professionisti, imprese e verranno nel caso valutati e paragonati a quelli attualmente inseriti e individuate le rispettive percentuali di riduzione. Le casse del Comune senza ancora aver iniziato a costruire... quindi diciamo... Grazie.